l'8079 collezione di franco bolli di italia regno in grande classificatore franco bolli qua all'inizio usati trotta non è semplice farli vedere ecco forse così ci sono anche franco bolli nuovi anche con serie di un certo costo la serie manzoni si ferma alla lira faccio una botte usato gli annulli ovviamente sono non garantiti in linea di massimo alcuni sono buoni altri sono palesemente postumi qui c'è garibald di nuovo qua siamo nella loro tenenza qua ci sono quattro cose di repubblica qui sfoglio veloce se c'è qualche cosa di interessante il grosso della collezione è quello dell'inizio se volete altre informazioni scrivete affilateli a chiocciola 4 baiocchi punto com qui 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 qui